L'evento del 24 settembre del 2016 è un evento eccezionale per la città di Napoli che verrà coinvolti la maggior parte dei giovani della federazione delle chiese evangeliche pentecostali in Italia e sarà un momento di grande festa per mostrare alla città di Napoli quello che il Signore sta facendo in tanti giovani credenti che hanno dato la loro vita al Signore e sono strappati dai tanti mali che in questo periodo e in questi tempi affliggono la gioventù in particolare. Crediamo che questo sarà un impatto molto forte nella città di Napoli perché siamo accompagnati certamente dalla presenza dello Spirito Santo di Dio è con noi e questo ci dà veramente conforto e forza per innalzare il nome di Gesù nella città di Napoli. Grazie a tutti!